Il protocollo è chiaro, ogni 60 secondi ci trasformiamo in un oggetto o animale diverso e in questo video se mi dovessi per qualche strana ragione trasformare in una mucca e già così suona strano, il video finisce. Ah, e così per contornare il tutto siamo invisibili e adesso tra 3 secondi, 2 secondi oh non voglio trasformarmi in un'ape, siamo diventati un blocco d'oro, va bene. Quindi la nostra avventura inizia come blocco d'oro. Se vedo che alla lunga non ci trasformiamo in una mucca, la challenge cambia in non dobbiamo trasformarci in un animale e lì sì che sarà difficile. Detto ciò, facciamo il blocco d'oro ladro? Ok, poi mi ha dato l'oggetto. Allora io non devo trasformarmi in voi, mi raccomando, tutto ma non voi, specialmente tu. In ogni caso facciamo i piccoli ladri che crescono e fra 3 secondi, 2 secondi, 1, ci trasformiamo in... Uh, che figo, no che figo, con il blocco d'oro che vuole, che figo, raga che figo. Michael Jackson, all'indietro. No, non troppo indietro, troppo indietro, troppo indietro. Niente dai, giochiamocela normal, sopravviviamo, andiamo a battere l'Ender Dragon come villager. Va bene? Madò quanto sarebbe bello un porcello che batte l'Ender Dragon. Guarda che mi vedo la testa, eh, eh, incredibile, epico. Tecnica della moltiplicazione del corpo, Naruto. Madò, madò incredibile. 5 secondi, dai che ci trasformiamo in qualcos'altro. Nei commenti, in tempo reale, scrivetemi in cosa ci si trasforma. Ehm, secondo me... In una pala. Ve la butto lì a caso. In un pollo. Oh, ma sapete che... Madò, in un pollo! Volevo fare la challenge che non posso trasformarmi in un pollo. Madò, sarebbe già finita. Il pollo ti punta la spada. Che fai, madò, raga, quanto è cattivo. No, quanto è cattivo da 1 a troppo. Troppo. Comunque, ora ci trasforma... Cioè, siamo passati dalla cattiveria incredibile di un pollo alla TNT che madò che se esplodo e tocco il fuoco... Se tocco il fuoco esplodo. No, dai, non credo. Vabbè, niente. Continuiamo nella nostra avventura. Sono sempre più basito, io ve lo dico. La mucca sta per arrivare, me lo sento. Abbiamo fatto il pollo, ora la mucca ci capita a 100-100. Uh, mi ha dato la TNT! Delirio, delirio. Cioè, ho fatto... È mio figlio! Oddio, ho fatto mio figlio! Il mini TNT! Sono quasi emozionato. Ok, vediamo in cosa mi sono trasformato. Oh! No, l'uovo di Ender... È questo... Mica è l'uovo di Ender Dragon! E tu muori, va? Guarda questo col figlio letto. Sarebbe un peccato se qualcuno andasse lì e rovinasse la famiglia per sempre. Quindi, due secondi, un secondo, addio uovo di Ender Dragon e benvenuto lava fucking block che sempre ti punta il ferro. O ti punta un altro blocco d'oro, dipende dai punti di... O ti punta la TNT, madonna che cattiveria. Va bene, va bene, va bene, va bene. Dai, giochiamocela normal, continuiamo la nostra incredibile avventura. Se no da qui non ci smuoviamo più. Ok, mi son fatto anche un'ascia di legno, nel dubbio, non fa mai male. Ma così per il meme mi servirebbe la club... Uh, ci siamo trasformati! Epico! E se ci trasformassimo? No, raga, preparatemi. Nell'Ender Dragon? No, no, non è decisamente questo il caso. Va bene, si sta facendo anche notte su questo incredibile mondo particolare. Vi ricordo che se anche voi volete tutte queste mod o modpack, dipende dai punti di vista, è quella che faremo, di questo video anche i precedenti, oltre a dovervi iscrivervi al canale, e non voglio andare lì dentro, non per il momento, li darò a tutti coloro che saranno sub su Twitch, vi ricordo che la sub è gratis, oppure coloro che su Discord, fatemi uscire da questo inferno, vi prego, avranno raggiunto un certo livello. Uh, ci siamo trasformati! Bellissimo! Nient'altro da dire, semplicemente bellissimo e andrò in giro così. Salve cavallo! Sotto A! No, siamo dei... E si fa anche il rumore dello scheletro! Vado, queste mod, raga, sono fuori di testa. Fuori di testa? Cioè, avete mai visto uno scheletro? Sotto! Che picchia delle mucche! Oh no! Ci siamo trasformati in una pecora! In un cavallo! Bellissimo! Ho sempre voluto essere un cavallo che ti punta la spada, però vabbè, un cavallo... No, stiamo andando al contrario. No, non si capisce una minchiazza da cavalli! E salto come un cavallo! Cioè, raga, un cavallo che prende la cobblestone, l'avete mai visto? Solo sul mio canale, raga, solo sul mio fucking canale. Vabbè, in ogni caso... No, non ci vedo niente. Eh, però, cavallino. Cioè, nel senso, spirit cavallo selvaggio? Certo, però... Ma cosa bruca l'erba? Non ci credo! Non ci credo il cavallo... No, è la mod migliore della storia delle mod migliori. Top 10 mod che non puoi superare. Al primo posto... Que... E siamo diventati proprio lui! Uno stone brick! Che sbocco! Guarda come faccio zucu zucu nel blocco! Incredibile! Incredibile! Any fucking way! Ok, la fornace ce la siamo fatta. Stuck. Vabbè, la volevo mettere in par... Che fallimento! E andiamo a cucinare un po' di cibo. Ehm... Ok, così... Sì, è un po' lentino, non avendo il carbone che fai non usi quello. E niente. 8 secondi e ci ritrasformi... Trasformi... Oggi non so parlare. Zero. Vediamo in cosa... Da, Ender Drago, ti prego, ti prego, ti prego! E insomma... Ora, ce ne andiamo via e niente, continuiamo la nostra incredibile avventura. Il video, stranamente, non è ancora finito, non si sa perché, non si sa per come. No, che co... Sono un gatto! E sono proprio un gattino! Cioè, il gattino che ti punta il piccozzo di... Di cobblestone. Quanto inquieta... Cioè, se dovesse farmi una rapina un gattino col piccozzo di cobblestone, Gli darei tutti i miei soldi e gli offrirei anche del sesso in cabbio. Ma questo, comunque, è un altro discorso. Ehm... Continuiamo nella nostra avventura. Cioè, faccio anche miau miau, che carino. Ve la butto lì. Secondo voi, in cosa mi sono trasformato? A. L'acqua sulla destra. B. L'albero che vedete sullo sfondo. C. Le foglie. Oppure D. Un pezzo di terra. Scrivete pure in chat cosa ne pensate. Non ve lo dirò per il momento. Sì, tra l'altro ci stiamo per ritrasformare in Ender Drago. Cosa cacchio sono? No, che schifo! No, in un rag... No, che schif... No, rag... No... No, 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 no. Perché? Perché? Beh, ci siamo trasformati in un ragno. No, dai, non voglio più giocare. Se vi dicessi sto per mettermi a piangere, ci credereste? Come... come sì? Come... han detto di sì? Vabbè, niente. Continuiamo. Poi sento anche il... Del ragno. Ma muori affogato, ragno di bed. Muori affogato. Ah, già che poi muoio affogato. Dannazione. Not stonks. Uh, caver... Beh! No, trasform... No, non voglio vedere niente. No, via. Trasformati, per favore. Siamo un fucking beacon! Delirio. Panica e paura, Meggiugori. Ecco, ecco. Guarda, io ero te letteralmente 30 secondi fa. Quindi vedi di non farmi niente. Mi ha dato il beacon! Epico, epico. Sata. Sata. Ci siamo trasformati, credo in uno slime... Allora, o sono uno slime, o sono un creeper. No, zombie! No, sono uno di voi! Vediamo se mi colpiscono. Sì. Sì, sì. Dai, sono un creeper con una spada! No way! Sì, però un creeper che sta morendo con una spada. Madò, che brutta grafica così. Madò, che brutta! Picchialo! In the gola, in the gola! Yes, troppo facile questo creeper. Madò, gag incredibile. Oh no, c'è un creeper! Epico. Un saluto alla mia famiglia che mi ha sempre voluto bene. Grazie a tutti per la... Visione! Sata! Sata! Creeper was slain by zombie. Siamo invisibili! No, si è buggato tutto. Allora, ultima trasformazione. Mega... Godo? No, io ero te un secondo fa. Vieni qui, amico! Abbracciamoci! Forse un po' eccessivo. Oddio, sono un Iron Golem! Oddio! No, non è vero, sono invisibile. Si è buggato tutto. Iscrivetevi se siete nuovi.